ciao zero come d'accordi ti mando il mio solo da 32 battute brano è quello di charlie parker che già conosci è sempre su quella traccia sono la prima 32 battute e i gestisti e facciamoli incazzare cioè proprio a me proprio dentro in caso con il jazz jazz proprio scritto jazz capito ma che roba hai fatto tutto incontrare una roba da matt infatti io non vi appartengo io sono categoria su una d'ora e me ne vanno un casino mani ma da bobo dirò da prima immagini che spaccato il marron chi ti ha piantato i gestisti e matta il solo da che fa l'inizio da di là ma a me vorrei sapere assorti in chi momento che mette il jazz scusa adesso però una roba seria questo nostro mini dialogo di botte e risposte potrebbe essere un bel intro per il jazz o anche un bel finalino insomma problema cosa dite dai la grande ghiacquaroni noi noi Grazie a tutti.